Saliamo la china, questa pista è terribile. Ma non è terribile, è troppo facile e quello è il problema. No, la pista è com'è, è sempre uguale, tenere le salsabolle come non piace tanto a me, però non è adesso che mi cambia la vita se sono tredicesimo o diciassettesimo. Per me è importante che il feeling migliori, ho sempre più fiducia, mi sento meglio da prova a prova, gara a gara e quella è una cosa importante.